Dunque, oggi parliamo non tanto di una tipologia di sistemi informativi come facevamo le volte precedenti, quanto di una tecnologia attraverso la quale vengono costruiti ad oggi la grande maggioranza dei nuovi sistemi informativi, che è la tecnologia derivata dal web, da una serie di soluzioni e standard che sono nati e si sono sviluppati in un contesto completamente diverso da quelli di sistemi informativi, che è appunto quello di internet, del web, dove c'è un concetto di apertura, condivisione, connessione aperta, che è molto diverso rispetto alla specificità di un contesto aziendale. Quando si parla di web information systems, quindi si parla di sistemi informativi, i quali usino delle soluzioni tecnologiche basate sugli standard di internet. Internet è nata dopo i sistemi informativi, i primi sistemi informativi vivevano nel mondo dei mainframe, delle reti dedicate, dei protocolli di rete proprietari, IBM aveva il suo protocollo per far comunicare le proprie macchine, non c'era nessuna, diciamo di rete globale e la programmazione avveniva direttamente all'interno delle macchine secondo sistemi operativi specifici. Nel frattempo è nata internet, in seguito tenete presente che stiamo parlando dei primi anni 90, in cui ci sono stati i primi browser web, è stato inventato il protocollo HTTP e linguaggio HTML, di cui oggi parliamo meglio, e quindi è cominciato a nascere il web come lo conosciamo. La rete internet, in quanto rete, in realtà è precedente, nel senso che risale agli anni della guerra fredda, in cui il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha finanziato una serie di progetti, particolarmente sulle università, per creare un'infrastruttura di comunicazione, l'obiettivo iniziale di internet è un'infrastruttura di comunicazione che fosse resistente agli attacchi nucleari, per cui se una parte dell'infrastruttura veniva tagliata fuori, la rete doveva continuare a funzionare ovviamente con le parti che erano rimaste integre. Da cui di fatto è nata la leggerezza e la robustezza di tutta internet, perché è nata senza un punto centrale di controllo che potesse essere messo fuori uso e con un meccanismo di crescita molto semplice e molto leggero, perché basta aggiungere nuovi tratti e installare il traffico su questi. Ma a parte il problema di rete è il problema di costruire dei livelli applicativi, ma tutto questo filone in cui non ci addentriamo ha creato tutta una serie di standard tecnologici, protocolli di rete, linguaggi di programmazione, linguaggi di descrizione, protocollo HTTP, protocolli applicativi, formati di immagine, tanto per dire il problema dell'interna naturalizzazione dei caratteri, quindi avere dei contenuti che fossero scambiabili tra persone che usano alfabeti diversi e cose di questo genere. N problemi che sono stati risolti in quel grosso filone. Chi sviluppa un sistema informativo a un certo punto si è trovato di fronte all'opportunità di dire ma perché inventarci le cose da zero? Copiamo da là, anzi usiamo le soluzioni che ci sono già là nel mondo internet applicandole nel mondo dei sistemi informativi. Quindi il sistema informativo web è un sistema informativo che usa, non è un sito internet, è un sistema che usa gli standard, i protocolli e i software che si sono sviluppati nel mondo internet per erogare i propri servizi, che possono essere accessibili su internet oppure no, questo è indipendente. È una questione tecnologica, quali linguaggi uso, quali standard uso, quali del web? Sì, no. Quindi è caratterizzato da due elementi, uno appunto costruire una rete che funziona con le regole di internet e non con le regole dell'IBM o quella della Microsoft o di chi che sia decida di inventarne, che è perfettamente legittimo. E due, che l'accesso al sistema informativo avviene attraverso un programma standardizzato che è un browser, lo stesso browser che usiamo per navigare il siti web. Semplicemente navigheremo delle pagine che sono generate dal nostro sistema informativo e magari sono accessibili solamente a noi, solamente al nostro reparto, solamente a nostra azienda, non hanno nulla a che vedere con internet. Però il linguaggio con cui sono scritte e le scritte è lo stesso. Perché questo? Ma per motivi di costo, sempre, e di efficienza. Nel senso che inventare un insieme di tecnologie e di linguaggi di standard costa, mantenerli aggiornati costa, installare i programmi sui pc di tutti gli utenti costa. Se invece tu hai un'infrastruttura che già esiste, la copi, la replichi, la installi, sui pc di gli utenti basta di mettere un browser e loro automaticamente hanno accesso tutto. Nel mondo internet si sono standardizzati, poi ne metteremo una serie di livelli applicativi ben definiti e dietro a questi livelli applicativi si sono nati dei software che fossero in grado di gestirli. Per cui quello che si scopre è che l'80% del software che ti serve per creare un sistema informativo basato su web è fatto da componenti standard. Usi quelli. Se non usassi quelli, se non usassi quelli standard dovresti costruire da zero quelle funzionalità legate a quei componenti applicativi. Sempre costo i programmatori esperti. Trovare persone che possano conoscenza ed esperti nella programmazione di sistemi basati sui standard internet è facilissimo. Trovare persone che siano esperti su un sistema operativo proprietario che ha una storia di 30 anni nata in modo proprietario dentro di IBM è molto più difficile trovare queste persone e è molto più costoso chiaramente portarsi a lavorare e che lavorino sul nostro sistema. Quindi alla fine è una questione di in parte di efficienza ma soprattutto di costi. Si è visto che questa è una buona soluzione per tagliare fuori tutta una serie di costi. Io qua vi salto questa parte qua che parla dei tipi di modelli di collaborazione, business to business, business to consumer, ma entriamo più sul livello tecnologico. Qui c'è una serie di esempi di servizi, ma sono principalmente servizi che hanno una controparte rivolta all'utente finale. Noi non necessariamente, mettiamoci nel caso generale dei sistemi informativi che abbiamo visto, che possono avere livelli di complessità molto diversi, dei sistemi più semplici in cui raccolgo pubblico informazioni, CMS che abbiamo visto ieri, insomma è una cosa molto semplice, a cose molto più complesse che vanno a integrare i processi gestionali, che vanno eventualmente anche ad integrare sistemi di aziende diverse, pensate al cosiddetto marketplace in cui vendono i prodotti di aziende diverse e quindi vanno ad integrare quei sistemi logistici di N aziende separate. L'integrazione, forse ve l'ho già detto, è una parola da non citare mai di fronte a una persona che lavora in la programmazione e gestione dei sistemi informativi. Ma a parte questo, che sono i domini applicativi, come vuol dire lavorare facendo riferimento agli standard di internet? Significa aderire a una certa architettura di riferimento che è ben chiara, ben fissa tutto sommato. Noi abbiamo un utente che usa un browser. Quindi se io faccio un sistema informativo, la modalità di accesso al sistema informativo è un browser web, con i pro e il contro che si porta dietro. Il pro sicuramente che è dappertutto, su qualunque macchina installata. Il contro è che dentro un browser non posso fare tutto ciò che farei dentro un programma che ho installato sulla macchina, non ho accesso a tutto, non ho la velocità d'accesso che avrei, eccetera. Ho delle limitazioni, ma dall'altra parte dei vantaggi. Il browser si collega a un sito web che contiene ed eroga l'interfaccia utente del sistema informativo attraverso una rete internet, di fatto che usa il protocollo TCPIP. Può essere la internet pubblica, può essere una internet privata, in quel caso la chiamiamo intranet, può essere una parte di rete che è per alcune funzioni pubbliche e per altre private. Può essere una rete dedicata, costruita tra diverse aziende che sono collegate tra di loro da linee dedicate, in questo caso si chiama extranet, ma questo problema, diciamo così, di infrastruttura. Ciò che interessa a livello applicativo è che c'è un modo standard per cui il browser possa parlare col server. e il server è un server web. Dopodiché questo server web, e qui dietro ci sono 7-8 standard correlati, si usano quelli. Il protocollo con cui comunicano è TCPIP, punto. Lo stesso che usate con la vostra, col wifi o con... Il sito web genera pagina HTML, punto. Quell'HTML è possibilmente standard. Standard perché deve essere compatibile con tutti i browser a cui volete dare accesso al vostro sito. Quindi se fate qualcosa di non standard, c'è stata un'ondata in cui la Microsoft ha cominciato a proporre delle estensioni non standard all'HTML che proponeva, che erano supportate solamente dalle sue browser. Per fortuna, dopo 10 anni, si è preso tante quelle bastonate in testa, per cui alle ultime versioni di Internet Explorer aderiscono più precisamente allo standard. E poi c'è un'architettura sottostante. Cioè, questo sito web è generato da chi? È da un'applicazione che conosce le funzionalità che il sistema operativo deve erogare. Questo è il vostro sistema informativo, è ciò che è andato a costruire. Questa applicazione di solito si avvale di un sistema o per meno passa viene filtrata da un livello di autenticazione, crittografia, sicurezza, per evitare accessi non autorizzati, ma poi l'applicazione eroga. Implementa in casi d'uso, se vogliamo, le varie funzionalità. E al 99% utilizza una o più basi dati nelle quali legge e scrive le informazioni. ma il bello è che di tutta questa catena l'unica cosa che non esiste ancora è questa. Nel senso che tutti gli altri componenti ci sono già. Internet, vabbè, c'è da parabolamento, tirare i fili, i cavi, ma non c'è nulla da creare da zero. I browser ci sono. I server web è un modulino software, ce ne sono tra quattro famosi al mondo, che installi sulla tua macchina e svolgi la funzionalità di server web. Il più utilizzato è Apache, che è un prodotto tra l'altro open source, quindi gratuito. I database ci sono. Database server SQL, tra quelli commerciali, con cui potete sparare cannonate grosse, come Oracle ad esempio, a quelli open source, più leggeri, per gestire un volume di transazioni minore. Ma sono prodotti fatti. È chiaro che poi dopo devi definire le tabelle dentro, facci le query, ma il database è già un prodotto commerciale esistente, commerciale o gratuito, ma esistente. Of the infrastructure, io mi concentro sulla parte applicativa, su ciò che deve fare il mio sistema informativo, quale funzioni deve realizzare, quale interfaccia voglio mostrare. Tutto il resto c'è già. C'è già il standard, per cui domani quando devo fare un sistema informativo diverso, estendo le funzioni esistenti, avrò una pila esattamente identica in cui le funzioni applicative sono diverse. Ma il modo di comunicare col database è fisso, l'output generale, che sono pagine web scritte in HTML è lo stesso, eccetera, eccetera. Qui, quando dicevo l'80% è già fatto, mi concentro sul 20% specifico. Questa figura è un'architettura logica, ovviamente, nel senso che poi ci sono alcuni blocchi che magari vivono entrambi sullo stesso hardware fisico. Alcuni blocchi, penso qua sotto il database, che a volte per ragioni di carico o di volumi, devono essere a loro volta splittati su più macchine fisiche per ragioni di prestazione. Quindi il mapping tra livelli logici e macchine fisiche non è uno a uno, dipende dai casi. Ma noi ragioniamo, perlomeno, a livello logico. L'architettura fisica, quindi abbiamo un browser che è installato con un pc di un utente che attraverso Internet o una porzione privata di Internet si collega a una batteria di macchine fisiche su cui girano questi vari software applicativi. Qui ho provato a dare l'idea di una server potente che avesse molte macchine a disposizione, perché magari probabilmente deve gestire i siti complessi. Qui comunicano su una rete locale e rendono i loro servizi accessibili, se vogliamo, anche al di fuori della rete locale attraverso la rete Internet. Quindi, quando parliamo di server, dobbiamo sempre fare attenzione ai due significati che può avere questa parola, in questo tipo di architetture. Quando parlo di server posso parlare di una macchina fisica. Ho comprato un server che mi è costato 20.000 euro, ha 8 CPU e 12 giga di RAM, eccetera, eccetera. Oppure è un livello logico. Cioè, ho installato il server web. Vuol dire che ho installato un software, sulla macchina esistente ovviamente, e questo software svolge le funzioni di server, ossia ci sono i processi che girano e sono in grado di eseguire delle richieste. Se sto parlando di un database, cosa che conoscete è già un pochino di più, c'è un modulo software che si chiama Database Management System di BMS, che è un server. Nel senso che quando lo installi, lui accetta di eseguire dei comandi scritti in SQL, nel caso specifico, nel linguaggio in cui il server è programmabile. Un server web, vedremo invece un altro livello di software che accetta comandi, sono quelli forniti nel linguaggio, il protocollo si chiama in quel caso, nel linguaggio HTTP. E quindi è un modulo software che risponde a certe richieste che arrivano dai livelli software sovrastanti. Questa piramide è una piramide gerarchica, nel senso che le richieste arrivano dall'alto e vengono eseguite. Ogni modulo fa richieste verso quello sottostante, non esiste mai che il database abbia voglia di interrogare l'utente. Quindi, di questi vari livelli, diamo un flash sui principali, magari quelli che è su database e non conoscete molto. Do per contato che non le conosciate queste cose, se sono cose che avete già sentito dire, ditemelo che mi concentro su altri argomenti perché ce n'è da dire. Allora, parliamo del colpevole principale, diciamo dell'elemento caratteristico di tutta l'architettura, il server web. Il server web è un modulo software, quindi un server logico, che gestisce il protocollo HTTP. Il protocollo HTTP è stato inventato in una mattina, immagino piovosa, da un certo Tim Berners-Lee, se non sbaglio nel 1991, giù di lì, che lavorava al San di Ginevra. Era un tecnico che lavorava in mezzo dei fisici e ha cercato di risolvere un problema che era quello di permettere ai fisici di scambiarsi più facilmente informazioni in riguardo agli esperimenti nucleari che stavano facendo. All'epoca l'unico modo per scambiare informazioni tra ricercatori, non c'era neanche il fax, l'unico metodo era quello di pubblicare articoli sulle riviste scientifiche. Ma pubblicare articoli sulle riviste scientifiche è un'operazione che richiede 9 mesi, 6 mesi. Perché tu devi scriverlo, mandare un editore su carta, lui lo manda ai revisori su carta, quindi devi mandargli nelle coppie, poi questi restituiscono, stiamo parlando prima di internet, loro restituiscono via posta su carta le loro revisioni scritte spesso a mano e poi l'editore te lo comunica. Insomma, c'è un lungo processo, che fa sì che dall'esperimento che ho fatto oggi al fatto che il mio collega che fa l'esperimento analogo negli Stati Uniti possano passare dei mesi. Allora, perché non passare dei mesi? E per quello poi nascono le conferenze scientifiche in cui i ricercatori prendono la bicicletta o l'aereo e vanno a una conferenza, si trovano e si parlano, quindi riescono a condividere informazioni con mesi di anticipo rispetto alla pubblicazione scientifica vera e propria. questo gruppo di lavoro al CERN ha cercato di accedere ancora di più le cose, ma dice ma se io avessi un metodo attraverso cui un ricercatore può ospitare su una propria server dei documenti e questo server offrisse a tutto il mondo il servizio di poter accedere ai documenti esistenti, la cosa sarebbe risolta in tempo zero. È chiaro che all'epoca era tutto da costruire e le due cose principali da costruire erano un modo attraverso cui un computer da una parte del mondo potesse chiedere un documento a un computer dall'altra parte del mondo, ricordiamo l'origine, ricercatori che avevano tutto interesse a pubblicare le loro informazioni, quindi è stato inventato questo protocollo che si chiama HCTP, Hypertext Access Protocol, che non aveva e non ha tuttora nessuna protezione, cioè chiunque può chiedere qualunque documento a qualunque server, diciamo oggi su internet, ma proprio perché è nato con quello scopo, facilitare gli scambi, è chiaro che quando guardate questa roba qua per fare e-commerce vi dà un pochino fastidio che non ci sia nessuna protezione a livello di protocollo, non è grave aggiungiamo a livello applicativo, c'è solo più lavoro da fare. Questo protocollo HCTP aveva un meccanismo di funzionamento semplicissimo, ci sono implementazioni del protocollo HCTP che sono programmi di mille istruzioni, non di più, roba semplice, contanto che doveva girarsi i computer 30 anni fa, è bene che fosse semplice. È un ciclo di lavoro molto semplice, il server HCTP sta fermo in ascolto, può ricevere delle richieste da parte di un browser, anche il browser è una cosa che bisognava inventare, non esisteva, quando riceve una richiesta il server HCTP legge, decodifica la richiesta per capire che cosa sto richiedendo, tipicamente sarà un file, il server web legge questo file da disco e lo restituisce a chi l'ha richiesto. Di solito il file che viene richiesto è un file scritto in un linguaggio testuale che si chiama linguaggio HTML. Tim Berners-Lee ha anche dovuto inventare il linguaggio con cui scrivere il file, perché non è come oggi che c'è il PDF o il doc e bene o male tutti riescono ad aprirlo. All'epoca c'era una variabilità di formati di file, ma a partire proprio dalla codifica dei caratteri, per cui un file salvato su un computer non era affatto detto che si potesse leggere su un computer diverso. E quindi si è dovuto inventare un modo per rappresentare il testo e le formattazioni principali del testo di cui i suoi amici fisici avranno bisogno, quindi a mettere dei titoli, dei sottotitoli, tabelle, figure, immagini, deskalie, eccetera, capacità di impaginazione che è insomma molto povera. Sono inventate queste due cose che ci sono ancora oggi e di fatto il server web funziona ancora così oggi. Noi sul nostro browser inseriamo un indirizzo, un indirizzo di internet, il browser costruisce un messaggio molto breve, che si chiama richiesta HTTP, quindi il protocollo HTTP è un modo delle istruzioni pratiche per costruire dei messaggi che si scambiano a questi due computer, il mio pc e il server web. Costruisce questa richiesta, invia questa richiesta attraverso internet al server, e quindi deve esserci un'infrastruttura tipo internet che mi permette di localizzarli questi server, ma questo è il problema di rete, dicevamo, non è il problema del server web, è il problema a livello inferiore, e il server web si vede arrivare a una richiesta che contiene all'interno il percorso di un file che gli interessa, che interessa a qualcuno, chiunque sia, non lo so, non mi interessa, non lo chiedo. Allora io vado a vedere sui miei dischi se c'è un file di quel genere, se c'è l'ho in pacchetto dentro un messaggio formattato secondo il protocollo HTTP, quindi mettendosi in testazione opportune, e lo rispedisco al browser. Il browser tipicamente prenderà questo file HTML e lo mette in bella, lo visualizza per l'utente, lo visualizza l'utente. Questo avviene sempre, ancora oggi, ogni volta che facciamo clic, lo possiamo anche vedere, se io prendo, questa è un'estensione che si chiama Firebug, net enabled, ok. E io chiedo di collegarmi a un sito, quello che vedo, quello che vedo qua sotto è un comando, questo elenco, poi lo commentiamo, sono le richieste, quando io ho fatto una zona di questa pagina, www.pulito.it. Questo è l'elenco delle azioni che il mio browser, in questo caso Firefox, ha fatto. La prima cosa che ha fatto è mandare un comando che si chiama get a un indirizzo che si chiama www.pulito.it. Get è il comando principale previsto dal protocollo HTTP. Il protocollo HTTP funziona così, il browser manda al server un comando che inizia di solito con una parola get oppure post oppure put, ci sono una serie di paroline che sono i comandi, in gergo si chiamano metodi HTTP, il nome del file che vuole prendere e poi la versione del protocollo che può essere la 1.0 o la 1.1. E questa richiesta viene qualificata da una serie di precisazioni, di attributi aggiuntivi, ad esempio nel nostro caso questa finestra qua è un'estensione che si chiama Firebug, Firebug, un'estensione di Firefox, se no c'è anche negli strumenti di developer tool sia in Chrome che in Firefox generativo in ultime versioni ci sono strumenti del genere, andate a cercare nel menu developer tools dei browser, o se no questa esensione è abbastanza utilizzata. E mi fa vedere, dove sono qua, diamoci più spazio, per questa specifica richiesta mi fa vedere che cosa è stato mandato nella richiesta, quindi l'Http è un semplice ping pong a un passaggio, ti mando una richiesta e mi mandi una risposta. La richiesta principale è questa, diamo la letta sopra, get http www.polito.it e poi come informazioni aggiuntive il mio browser ha mandato al server questa pappardella di informazioni. Di fatto, ovviamente il significato di queste cose è scritto nella specifica del documento del protocollo HTTP, che sono poi 30 pagine, non è che sia una cosa mostruosa. Vedete che è una cosa molto semplice, un insieme di copie nome e valore, ad esempio accept, io mando la richiesta www.polito.it, dammi l'home page e gli dico, senti, tu puoi mandarmi indietro text-html, quindi se questa risorsa ce l'hai in formato html, mandamela, se non ce l'hai in formato html e ce l'hai in formato xhtml e xml, mandamela, se invece ce l'hai in formato xml, mandamela lo stesso, e questo con qualità 0.9, cioè preferenza 0.9, altrimenti mandami quello che hai, comunque altra cosa con priorità è inferiore. Cioè sto dicendo quali sono i formati che io sono in grado di leggere, io browser, sono in grado di leggere, decodificare, mostrare al mio utente e le preferenze. Questo fa parte di un meccanismo che si usa molto poco in realtà, si chiama content negotiation, in cui il server se ha più versioni di un certo contenuto negozia col browser quale versione mandagli. E poi se vuoi mandarlo anche compresso, se vuoi risparmiare banda, caro server, questo stesso contenuto non lo puoi mandare compresso con questo o quell'altro algoritmo di complessione. E poi il mio utente ha impostato, questo è il linguaggio con cui è stato impostato il browser, il sistema operativo del pc su cui gira questo browser e quindi chiedo all'utente, al sito, se ha più versioni, la versione in inglese in questo caso, perché è stato Firefox in versione in inglese. Quindi questo è il motivo per cui quando voi navigate su un sito internazionale vi salta fuori quasi subito, quasi sempre, la versione italiana. Perché è il vostro browser che gli dice, guarda, questo mio utente parla italiano. E poi ci sono altre cose, ecco l'ultima, carina, lo user agent e il mio browser si presenta. Te frega niente, ma io sono questo, io sono un browser di questo tipo, versione talletale che girano sul sistema operativo questo, versione talletale e così. Quindi il server sa qual è la versione del browser che richiede questa pagina. Di solito non deve interessarvi, se no magari a fini statistici voglio sapere da quali piazzaforme i miei utenti usano il mio sito. È anche importante però per uno sviluppatore, perché ci sono alcune caratteristiche avanzate dell'HTML che alcuni browser implementano in modo migliore, altri in modo non perfetto e quindi bisogna fare attenzione alla compatibilità tra i vari browser e in alcuni casi prendere dei provvedimenti se il browser è di un certo tipo, è troppo vecchio e non supporta certe cose. Questa pappardella qua, ne parliamo più avanti, sono i cookie che sono delle piccole informazioni che questo sito mi ha, questo sito qua, www.bolito.it, mi ha dato in passato e io gli ripresento per ricordargli chi sono. È un discorso più lungo, non lo facciamo adesso, perché in realtà non è… in realtà noi l'abbiamo visto qua bello… messo in bella questa cosa, ma se andate a vedere in realtà è semplicemente un pezzo di testo scritto così. Questi sono gli effettivi bytes che il mio browser ha mandato al server, non è più complicato di così. Delle cose, una per riga, proprietà a due punti, valore della proprietà, a capo. E questa è la richiesta. Questo pacchetto ha fatto il giro del mondo sei volte, poi è arrivato in corso duca degli Abruzzi, in questo caso non ha fatto il giro del mondo, potrebbe averlo fatto, non mi interessa, è un problema del TCP IP, il browser non lo sa, il server non lo sa, il server riceve questa richiesta, dammi slash la pagina principale del tuo sito e il server mi ha detto va bene e ha risposto, ha risposto con una risposta in formato HTTP ovviamente, in formato HTTP per una risposta prevede due componenti, un'intestazione e un corpo. L'intestazione è nello stesso formato della richiesta, ovviamente le parole chiave, gli attributi sono diversi. Dice guarda io ti do questo contenuto, tu mi hai detto che lo potevi prendere compattato con gzip e allora io te lo do compattato con gzip, saranno 6.875 byte, quindi finché non ne vedi tutti per favore non rompe le scatole, te l'ho mandato in formato text HTML e ti prendo le risposte alle dichiarazioni di disponibilità che mi hai dato tu prima. La data corrente adesso 12.02 tempo di Greenwich, quindi adesso sono le 13 qua e questa è la data in cui il documento che ti sto dando è stato modificato per l'ultima volta. Però questo documento è stato modificato per l'ultima volta ieri sera alle ore 11, anzi a mezzanotte, qua era già a mezzanotte, immagino che a mezzanotte ci sia qualcosa che gira che aggiorni il contenuto delle pagine perché a mezzanotte di due secondi magari non c'era qualche uomo fisico che modificava le pagine. E il server è anche uscito presente, in questo caso è un server di poche parole, a volte se vai a vedere i server danno informazioni molto più ricche, questo è un motivo di protezione, se io vado a vedere il nostro server, come detto è molto più prolisso, ovviamente la get è di eli.polito.it, ma il server risponde qualcosa di più, dà delle informazioni in più. E questo è ogni server che decide quali informazioni fornire. E queste sono le interstazioni, cioè la risposta è questa, a cosa mi serve la data? Quasi niente, forse sapere la... niente, fa parte del protocollo, è la data della risposta, il timbro postale della risposta. L'ASModified invece mi serve parecchio, perché io so che quella pagina, quel contenuto è recente pure di ieri o dell'altro ieri, è uno dei meccanismi di base per cui ogni quando navighiamo nelle pagine il browser può mantenersi, nella cosiddetta cache, una coppia dei file che ha scaricato e se questi file nel frattempo non sono cambiati evita di riscaricarli ogni volta, quando andate su una pagina. Dicevo, queste sono le interstazioni e poi c'è la risposta vera propria. Una risposta HTTP è fatta di due parti, interstazioni e corpo, separati in una riga vuota, tutto a vedere molto molto semplice, righe di testo, roba che potevamo fare al primo anno, con l'informatica che abbiamo studiato al primo anno. E il corpo, di solito, è scritto in linguaggio HTML. Può essere qualunque cosa, il protocollo HTTP non lo specifica, dice solo, qualunque corpo tu mi dia, per favore, anzi, devi dichiarare in che formato è. In modo che il browser, quando si vede arrivare quei byte lì, sapete cosa farsene. Normalmente è formato HTML. Questo testo qua contiene la descrizione del contenuto della pagina che vediamo. Questo è ciò che arriva al browser e con queste istruzioni, adesso stiamo un pochino più in dettaglio, il browser è in grado di disegnare la pagina, quello che vedete. Al suo interno l'HTML contiene, può contenere del testo, ma può contenere soprattutto dei comandi. Ad esempio UL è il comando per fare una lista non puntata, unordered list significa. Form è il comando per fare dei moduli, questa cartellina qua sopra, là in alto. E così via. Quindi l'HTML è un linguaggio basato su comandi testuali, che sono tutti racchiusi tra segni di maggiore o minore, tra tag di questo genere, tag angolari a volte li si chiama, che danno istruzioni del tipo questo è un titolo, questo è un testo, questo è una cartellina di testo, questo è un'immagine, eccetera, eccetera. E sulla base di queste informazioni il browser disegna la pagina, mette i colori alle cose, le posiziona, mette le scritte, eccetera, eccetera. Quindi è un linguaggio di descrizione della pagina, che al suo interno però questa pagina può contenere anche delle immagini. E le immagini ovviamente sono documenti esterni, ne sto cercando una. Prendiamo qua che questa è più semplice. Questa pagina qua del sito Lite è un pochino più semplice. Ad esempio, vedete che c'è, no, no, questa qua non mi piace. Eccolo qua. Image. IMG è il tag, il comando del linguaggio HTML che indica a questo punto, in questo punto della pagina voglio un'immagine. Quale? Eh beh, ti specifico un'altra indirizzo web da cui il browser può scaricare l'immagine. Quindi, ricordiamoci che siamo da due parti diverse dal mondo. Il browser chiede al sito, dammi la tua home page. Il sito gli risponde con dell'HTML, che gli dice cosa scrivere nella pagina. E poi dice, a questo punto, in questo punto voglio un'immagine. E il browser dove ce l'ha l'immagine? Non ce l'ha sul suo computer. Allora il server deve dire dentro l'HTML al browser un altro indirizzo web da cui questo si può scaricare l'immagine. Allora il browser, per quello che quando io ho chiesto una pagina il browser me ne ha dato 200. Dov'è che ero qua? Ho chiesto una pagina, guardate quante richieste, quanti get sono partiti. E questi get, a parte alcune cose che non vediamo ancora, sono relativi a buona parte delle immagini. Questo png, png, .gif, jpeg, e vedete la miniatura, sono le varie immagini che sono presenti su questo sito. Che ogni volta che il browser riceve l'HTML, contiene le immagini, queste immagini devono essere ogni volta scaricate. Qui a fianco fa vedere i tempi corrispondenti. Tempo di attesa, tempo di scaricamento. Vedete che per caricare questa pagina la prima volta ci ha messo 5 secondi. Qui la pagina HTML, infatti, è un collage di contenuti di tipo diverso, tutti pilotati da un file scritto in modo testuale, un file di testo scritto con i comandi del linguaggio HTML. Questa è la natura di base del web. Poi, se volete andare a vedere, sempre con estensioni di questo genere, c'è una cosa molto carina, che è il corretto Inspector, per cui ti permette di navigare sulla pagina, ti evidenzia delle parti della pagina e in modo sincronizzato ti fa vedere la parte di HTML che genera quell'elemento. Quindi, se voglio sapere come è fatta questa carina di testo qua, la clicco qua e sotto mi fa vedere la porzione dell'HTML che contiene un form, il quale all'interno contiene un div, il quale all'interno contiene un elemento di input, che è la carina di testo e un altro che è il bottone di invio. Non ho bisogno di nessun permesso particolare per fare queste cose. Se io vado su un qualunque sito, non so, Amazon, voglio vedere come è fatto, senza neanche avere estensioni particolari, ho sempre, aspetta, qui ho cliccato nel modo sbagliato, ho sempre un comando vedi i sorgenti della pagina e questo sorgente della pagina è visibile, basta saperlo, a tutti. Voglio sapere come hanno fatto una cosa? Beh, ho il sorgente a disposizione. L'HTML che hanno scritto loro arriva a me, non può essere diversamente, perché sennò il browser non potrebbe mostrarlo. Quindi, Internet è una cosa che va avanti scambiandosi file di testo di un formato terribilmente semplice. e la gestione di questo scambio di informazioni avviene attraverso un software che è il server web. E questo software gestisce queste operazioni, cioè il server web sta in attesa. A un certo punto riceve una richiesta dal browser, ma questo è l'astro dei tempi, quindi qui c'è un utente che decide io voglio una pagina, clicco. Il browser dal clic dell'utente capisce quale pagina deve richiedere, forma la richiesta HTTP, la manda sulla rete del server. Il server riceve la richiesta, capisce di che cosa si tratta e legge il file da disco. Prende il file, gli mette davanti le intestazioni HTTP, lo comprime eventualmente se è il caso e lo manda al browser. Il browser lo riceve e lo visualizza. Questo è il caso in cui non contenga delle immagini. se contiene delle immagini questo ciclo riprende subito dopo. Scatterà altre richieste HTTP fino a quando tutte non sono soddisfatte, fino a quando il browser non ha tutti gli elementi che compongono la pagina a disposizione. Allora si può fermare e ridare controllo all'utente. Dopodiché l'utente legge, fa, decide, fino a quando l'utente non fa un altro clic il server si dimentica completamente di lui. questo si dice tecnicamente che l'HTTP è un protocollo stateless, senza stato. C'è il server web, il componente server web non si ricorda che cosa ha fatto un attimo dopo averlo fatto. Ma al punto che di queste duecento richieste o quante erano, che sono arrivate tutte nell'arco di pochi secondi dal mio stesso computer allo stesso server web, ecco, da questa a questa il server non ha nessuna nozione del fatto che fanno parte della stessa pagina o che sia una richiesta allo stesso utente. Per il server web sono richieste indipendenti. Potrebbero arrivare tutte le persone diverse e spazio in luoghi diversi del mondo. Sì, poi c'è un sospetto perché l'indirizzo IP del chiamante è lo stesso, ma non cambia, non importa, lui non le tratta in modo diverso. Non lo sa. Il lavoro del server web è dare i documenti che la gente le richiede. Fine. Che questi documenti siano richiesti perché all'interno dell'HTML il browser web abbia deciso che c'era un'immagine e quindi ha bisogno di richiedere quell'immagine è un problema del browser, non del server. Il server è molto stupido. Molto stupido quindi può essere molto efficiente, molto veloce. servire decine di migliaia di richieste al secondo. Una pagina causa così tante richieste, pensate, o tanti utenti che vanno sullo stesso sito, di quante richieste viene bombardato il server web ogni secondo, se ha un minimo diciamo così popolare, frequentato. quindi il lavoro del server web è rispondere velocemente a questo tipo di richieste, veloce, e senza pensare a chi lo chiede e a che cosa sta chiedendo. Questo è il primo livello. Guardate che sul protocollo HTTP vengono costruite praticamente tutte le applicazioni di oggi. Allora, se proviamo a riassumere attraverso uno schemino che poi andiamo via via ad arricchire, noi abbiamo il nostro utente che usando l'interfaccia utente termocastiera o cosa, usando un browser e qui ho messo tante icone perché di browser ce ne sono tanti, alcuni funzionano meglio, alcuni peggio, alcuni sono più veloci, alcuni sono più aderenti agli standard e per cui devo sempre capire che cosa ha in mano ogni utente. L'utente manda un comando attraverso il browser, cioè cliccando, scrivendo qualcosa, dice al browser voglio quella pagina. Il browser manda la richiesta al server web e il server risponde e manda indietro un file. Questo file viene preso in carico dal browser e in particolare da un componente del browser che è il motore di layout, cioè il motore che legge l'HTML e impagina, decide l'impaginazione. Quindi deve essere in grado di leggere l'HTML e di decodificare le immagini, no, questo motore di layout man mano che decodifica l'HTML chiede al browser di fare altre richieste che saranno tutti i media collegati, tutte le immagini tipicamente collegate, i fonti in alcuni casi, i fogli di stile lo vedremo e gli arrivano dal server possono arrivare in ordine sparso con dei ritardi variabili, il motore di layout è una persona molto paziente che alla fine quando ha tutto lo mette insieme e lo mostra all'utente sullo schermo. questi due sono separati. Sul server guarda che cosa c'è? Beh, ci sono due cose, ci sono i file HTML e ci sono i file contenente le immagini principalmente, poi andiamo a aggiungere delle cose, come vedete c'è tanto spazio bianco qua. A questo punto, vabbè, le immagini qualcuno deve fare. I file HTML chi li scrive? Nella preistoria li si scrive alla mano, però quando la complessità diventa forte, soprattutto quando c'è bisogno di un certo tipo di aggiornamento dei contenuti, non è pensabile scriverli a mano. Pensate a questo sito in cui sulla sinistra c'è un menu e in qualunque pagina voi andiate c'è sempre questo menu qua. E io domani decido di aggiungere o cancellare una categoria di questo menu qua. Cioè non è pensabile che io mi metta a mano a modificare tutte le pagine del sito per aggiungere o togliere una voce di menu. Perché poi di sicuro ne dimentico qualcuna e non lo faccio in modo corretto, coerente, eccetera. Allora, questa pagina, tutte queste pagine sono generate dinamicamente da un software. Queste pagine HTML non le scrivo a mano, scrivo un programma che secondo certe regole genera a sua volta le pagine HTML. In modo che se devo aggiungere o togliere una voce del menu basterà dire a questo programma o modificare questo programma e lui da quel momento in avanti tutte le pagine che genererà saranno generate con il nuovo tipo di menu. quindi le pagine HTML che noi navighiamo sono tutte pagine che lato server sono generate in modo dinamico, cioè da un software opportuno. È qui che ci sta l'applicazione web. Sono pagine che ci fanno un pochino pena. Un millisecondo prima non esistevano, poi arriva la nostra richiesta, nel momento in cui facciamo la richiesta viene attivato un programma, un software, un'applicazione che ha come unico scopo della vita quello di generare l'HTML per me, questo genera un file in uscita, questo file viene mandato al mio browser il quale me lo memorizza. Subito dopo che il server web mi ha risposto questo file viene dimenticato, cancellato, perso per sempre. È molto effimero, lato server l'HTML è effimero. Il tutto è nato dicendo il server web serve dei file HTML scritti a mano dai fisici di 30 anni fa, 20 anni fa scusate, ma con il crescere di internet si è passati da siti internet statici ad applicazioni internet dinamiche i cui contenuti sono sempre comunque generati da un applicativo software, scritto in opportuni linguaggi di programmazione, non c'è nessun sito web scritto in C, sono scritti in linguaggi che sono stati inventati, nati, adattati per il web in modo che sia molto facile scrivere, fare HTML e fare altre cose, quindi di fatto il nostro click si trasforma attraverso tutta questa catena in una richiesta a questo programma, a seconda di dove ho cliccato, a seconda della parola che ho scritto nel campo di ricerca, a seconda dell'orario che ho inserito nel form, questo orario, questo valore arriverà come parametro a questa applicazione e quindi mi darà una risposta diversa. Questa è una figura nello slide non è tanto giornata, ma questo indirizzo qua, nel craft le trovate aggiornate periodicamente, che ci dà l'idea di che cos'è un server web, cioè di questa figurina qua questo quadratino, questo ci dobbiamo scrivere noi, tutto il resto è già pronto, i quadratini verdi sono già esistenti e qui fa vedere una distribuzione statistica di quali server sono più utilizzati al mondo e vedete che quello che è più utilizzato è questo qui Apache che è un prodotto open source disponibile per tutti i sistemi operativi ma preferibilmente per quelli della che funziona meglio su quelli Unix, Linux e il secondo è il server web della Microsoft per cui se voi avete un'installazione Windows Server arriva con un suo server web che è Donnet qualche cosa che ha i suoi alti e vasti ci sono i momenti di ripresa e i momenti invece di calo è sempre stato però sotto la pace e gli altri sono decisamente percentuali trascurabili c'è questo che cresceva vedete che qua c'è un trend di crescita che è controbilanciato dalla decrescita di questo che è un server molto più leggero di Apache ma molto più veloce tra alcuni siti veramente ad alta frequenza di aggiornamento sono switchati su questo altro prodotto che è un altro prodotto open source i prodotti commerciali non hanno buona vita in questo no? ma perché da un altro i prodotti open source funzionano meglio e dall'altro se io faccio una scelta di un'infrastruttura tecnologica che deve durare 30 anni 20 anni tanto tempo beh se ho delle alternative posso evitare di leggarmi a un singolo fornitore in ogni caso di queste statistiche ne trovate in giro tantissime dipende ovviamente sempre dal punto di vista di chi le fa cioè questo che cosa conta conta i server quindi quanti server web sono attivi però il server elite quello del politecnico che contano uno e uno entrambi tra l'altro usano a pace ma il sito del politecnico ovviamente ha un numero di accessi che è mille volte superiore a quello del mio sito qui contano entrambi uno se andate a contare per accessi avete una statistica diversa se andate a contare per persona per popolazione è ancora una statistica diversa se andate a contare per pagine quindi non solo quanti accessi ma quante pagine diverse contengono i siti quindi ciascuno ovviamente presenta le statistiche mettendogli dentro le variabili che lo fanno risultare meglio però è difficile negare che sicuramente il mercato dei server web sia dominato dei prodotti open source e questi server web sono prodotti standard si agganciano ai cosiddetti server applicativi cioè degli ambienti all'interno dei quali o dentro io posso scrivere il mio programmino di personalizzazione della pagina di creazione della pagina come dicevo sono scritti linguaggi di programmazione opportuni e contengono la logica del sito non la logica aziendale la logica con cui creo questa pagina così se l'utente mi ha fatto questa richiesta e in qualche modo è pinzato dal lato alto verso l'html l'utente verso il basso sui dati cioè deve rendere accessibili i dati del sistema informativo del database principalmente attraverso le pagine html quindi in realtà ciò che succede è un pochino più complicato prima dicevamo server web prende un file html e me lo restituisce questo file html non esiste abbiamo detto se non esiste viene generato al momento quindi server web quando riceve una richiesta guarda niente di tutto guarda e dice ma questa richiesta è un file statico o un file dinamico un file statico che non so l'immagine c'è ce l'ho salvato sul disco oppure un file dinamico beh se è un file dinamico io server web non so rispondere io server web sono capace a smistare file e basta ma allora io server web mi integro con delle applicazioni con un altro livello di server un application server che a volte è un processo separato a volte è un modulo interno allo stesso server dipende dai casi che sarà in grado di la tratto non come una richiesta di un documento ma come una richiesta di un servizio questo servizio viene erogato da un altro server quindi passo la richiesta questa richiesta avrà dei parametri eventualmente cioè i dati che noi abbiamo inserito nei form avrà una sua logica cioè l'algoritmo qualcuno lo scoccolge lo deve scrivere e quindi come risultato genera in uscita un html che come vi dicevo viene mandato via e subito dimenticato quindi a volte che facciamo click stiamo attivando un software che gira su un computer dall'altra parte del mondo che molto gentilmente ci offre la sua capacità di calcolo per darci la pagina html tutti tutte le pagine html questa è una pagina dinamica questa è una pagina dinamica che genera questo contenuto sulla base di informazioni che ci sono nel database guarda qui ultimi aggiornamenti qui ci sono i link agli articoli di questo sito che sono stati aggiornati più di recente ma non mi metto tre volte al giorno ad andare a vedere quali sono gli aggiornamenti e modificare a mano questo html qua questo html non esiste semplicemente c'è un software che fa parte di joomla da parte di joomla interroga il database che contiene gli articoli davvero e va a vedere dimmi quali sono quelli fa una query order by publication date e fa la query al database chiedendo quali sono gli articoli più recenti e li mette nell'html è un software che genera questa parte qua e genera il link che mi manda a quella pagina quando clicco sopra clicco su un link questo titolo qua perché è identico a quello che abbiamo visto sulla prima pagina perché sono due pagine html diverse generate entrambe andando a leggere i dati che sono scritti in un database e formattate in html e poi il browser ci pensa a formattarlo in modo visuale quindi ogni informazione praticamente ogni informazione di ogni sito al giorno d'oggi è creata combinando diciamo dei template di pagina dei modelli di pagina popolandoli con informazioni che provengono dalle basi dati quando è che una pagina può cambiare può cambiare quando questa applicazione decide di generare un html diverso se io carico 30 volte questa pagina ottengo 30 volte lo stesso html o ottengo 30 volte html diversi ovviamente la risposta dipende se carico questa pagina che abbiamo visto adesso ottengo 30 volte lo stesso html perché nel frattempo non è cambiato nulla nel database sottostante a cui questa applicazione si interfaccia quali sono i motivi per cui questo html generato da questo software può essere diverso sono tre una cosa può cambiare questo software a questo software può cambiare tre cose il tempo perché una cosa se da qualche parte sul sito scrivesse in un'angola l'ora esatta se tu lo ricarichi un attimo dopo quella l'ora esatta è cambiata vabbè non ci interessa ma le altre due cose possono cambiare i dati che vengono usati da questo software per mostrare la pagina tu aggiorni la pagina di twitter aggiorni la pagina di facebook è sempre la stessa pagina è sempre il suo indirizzo ma i contenuti sono cambiati perché dentro il database del server il contenuto è cambiato e la logica che si genera la pagina si genera un contenuto diverso oppure l'utente se io apro la pagina di gmail e tu apri la pagina di gmail è la stessa pagina la stessa ur lo stesso server lo stesso indirizzo ma spererai ben che io veda le mie mail e tu veda le tue e non tutte le stesse quindi la logica applicativa deve fare questi due lavori fornire dei dati che siano allineati con l'ultima versione dei dati memorizzati nel sistema informativo e fornire dei dati che poi alla fine sempre l'HTML che sia personalizzato in funzione dell'utente che l'ha richiesto queste due cose il server web non le vede minimamente non le capisce proprio sono fuori dal suo livello di comprensione ci vuole un programma che si è costruito su misura per fare queste cose riconoscere l'utente sapere con quali vari dati interfacciarsi e così via e infatti vado avanti a questa figurina qua quasi non esiste applicazione web che non sia in qualche modo collegata a un database quasi non esiste quindi in realtà l'architettura vera e infatti si parla dell'architettura 3 più 1 livelli 1 2 3 più 1 che è il browser minimo perché cosa succede l'applicazione arriva alla richiesta c'è c'è una richiesta che se vorrebbe riconosce come richiesta dinamica vuole un file html ma questo html non esiste va generato a suo momento ok chiamiamo un'applicazione per generarlo questa applicazione nella sua logica si accorde di aver bisogno di informazioni allora cosa fa prende fa delle query in sql le manda al database dicendo il database select asterisco from order by to where bla bla e il database lo fa è il suo lavoro per distribuire i dati all'applicazione questa applicazione prende questi dati e li infila li inserisce nel punto giusto all'interno del file html quando fa html finito lo può mandare passare al web server in quale lo distribuisce al browser contando che una singola pagina web ovviamente può aver bisogno di fare diverse query sul database anche una decina chi è l'utente che permessi ha come si chiama per mettere benvenuto tizio che lingua parla è il salvo salvato nel profilo dell'utente dove è il profilo dell'utente nel db quindi ad ogni pagina ad ogni pagina questo qui è smemorato non si ricorda chi è l'utente se l'utente ha cliccato e io gli ho fatto la pagina html l'utente riclicca un secondo dopo io non so chi sia devo ripartire da capo quindi ogni volta devo rifare poi ci sono tutti i meccanimi di caching che volete ma concettualmente è una richiesta nuova e devo ripartire da capo e ricostruire la pagina html da zero un po' più chiaro ci sono qui noi scriviamo allora tenete conto che questi pezzi sono tutti pronti qui c'è un interprete di un linguaggio noi scriviamo all'interno di questo linguaggio ad esempio un linguaggio molto usato per fare cose semplici è il linguaggio php che è un linguaggio che permette di mescolare tra di essi mescolare il caso file dei pezzi di html e dei pezzi di codice con if while for alla fine le cose che avete imparato dalla programmazione le usate per leggere un dato nel database e mettono nel punto giusto se ho che non so questo menu ha fatto di uno due tre quattro cinque sette voci quante sono e ci sarà lì dentro un ciclo while che sui risultati faccio una query mi dice dammi le voci del menu del primo livello questa qui ti risuisci n risultati tu fai un ciclo in cui ad ogni terza del ciclo disegni scrivi in html questa parte qua di pagina scrivi quella stringa di testo people che era nel database da qualche parte questo sito tanto per capirci vediamo se è accessibile da qua il sito joomla si regge su un database mysql che ha queste queste tabelle cioè joomla è un software open source scritto in php il quale ci permette di gestire i siti e lui al suo interno si memorizza i dati in una serie di tabelle ad esempio categories probabilmente è una tabella che contiene le categorie degli articoli per cui vedete contatti laurea specialistica eccetera progetti che corrispondono alle categorie del menu questa è una tabella del database su cui ci regge joomla io non devo mai interagire per fortuna con queste tabelle direttamente lo fa il software se voglio avere se voglio avere i contenuti dov'è che sono content probabilmente immagino il contenuto sono gli articoli c'è l'id dell'articolo il titolo la data di creazione è quello che abbiamo visto ieri nell'interfaccia bella carina alla fine vanno a finire in una tabella di un database non è nulla di speciale e così via questo database contiene le informazioni che il software joomla il software complicato scritto nel linguaggio php interroga queste tabelle per generare l'html che viene visualizzata dal browser ma questa qualunque applicazione funziona in questo modo chi progetta il sito deve programmare in questo linguaggio e ovviamente deve progettare le tabelle del database in modo che possano ospitare i dati opportuni in realtà poi ci sono tante professionalità coinvolte qua in mezzo perché poi c'è anche un grafico che deve dire ma questo html non farmelo brutto bianco e nero farmelo in colonna così farmelo con questi colori qui va tutto il nostro lavoro si condensa dentro questo file qua il quale è generato da questo software qua ecco questo è un esempio di un frammento di una pagina scritta in php questo linguaggio dice fa vedere ad esempio voglio vedere di fatto una richiesta un semplicissimo motore di ricerca che vuole sapere quali sono i documenti che contengono una certa parola chiave allora in qualche modo la parola chiave è stata specificata all'utente questo dollar request query indica che nella interfaccia web della pagina precedente c'è una casella di testo che si chiamava query e quindi dollar request query vuol dire la richiesta dell'utente quindi l'utente avrà cliccato su un bottone ricerca un bottone invio questa azione ha fatto sì che il browser impacchettasse nella richiesta http nel get una stringa query che è il nome della casella di testo uguale tipo che è ciò che c'è sull'utente e quindi a livello di applicazione io posso estrarre dalla richiesta dall'oggetto richiesta il parametro che si chiama query quindi questo verrà sostituito con pippo allora qui qua metto dentro una stringa il messaggio virgolette select id del documento dal join tra le tabelle parole chiave e indice dei documenti dove la parola chiave è uguale a pippo e chiaramente questa è la condizione di join tra le due tabelle quindi una tabella di documenti è una tabella di parola chiave è una tabella di chiave esterna che collega le due quindi voglio vedere gli id dei documenti che contengono almeno una volta quella parola chiave è una query non un esercizio di base di dati che avete dimenticato bene solo che questa query è parametrica e il valore di questo parametro arriva dall'utente che è stata dall'altra parte del mondo l'ha inserita in un form web e attraverso il browser è arrivato il server web e attraverso il server web è arrivato l'application server php che l'ha passata al mio script e io lo uso per comporre una query che finora è solamente una stringa di testo ma poi ho un comando qui mancano dei pezzi non c'è tutto il codice che serve un comando mysql query cioè prendi questa query che ho appena composto e dalla il server passa alla server di database chiedendo per favore elaborami questa richiesta il server database fa il suo lavoro e restituisce una tabella di risultati in un insieme di righe e poi io nel mio programma while row uguale fresh row di row set cioè una riga alla volta di questo insieme di righe ne prendo una riga alla volta questa riga la chiamo row e qua probabilmente stamperò dei dati potrò accedere row di 0 row di 1 row di 2 che sono i valori della prima seconda terza colonna questa è la vita del del programmatore web qui ci sono solamente i dati tutto questo ovviamente va inserito dentro dei tag html perché i dati non li metto tutti di file li metto a capo li metto nella tabella quindi devo usare i tag dell'html per fare la tabella tibur per fare la tabella tr per fare le righe della tabella td per fare le celle della tabella e vabbè ci tratta di impararsi questo linguaggio quindi nella nostra figura abbiamo detto l'applicazione web da sola può darti i risultati ma non conosce i dati e i dati chi li ha? il database e quindi l'applicazione web deve da un lato scrivere html dall'altro deve parlare sql con il database e l'applicazione stessa è scritta in un altro linguaggio ad esempio php quindi per fare una pagina web semplice semplice ma molto più semplice di quella del sito che abbiamo visto devo almeno conoscere l'html il php e la sql minimo se non voglio fare nessun layout particolare vabbè poi devo fare delle immagini ma quelle le faccio a parte minimo tra linguaggi di programmazione per fare dei siti che hanno il sapore dei siti di 30 anni fa di 20 anni fa perché i siti moderni sono molto più ricchi sono ricchi di interattività quando io vado qua e passo sulle varie voci si evidenziano quando ho le news queste qua ciclano temporizzate anche qui addirittura ci sono delle cose che si muovono si aprono si chiudono si evidenziano e chi è che le fa queste cose chi è che decide che queste cose sono una a fianco dell'altra ci sono delle cose che appaiono scompaiono l'html da solo come linguaggio non è abbastanza potente per dire queste cose l'html è un linguaggio che descrive gli elementi che ci sono come sommessi dal punto di vista tipografico non è sicuramente una componente interattiva allora l'html si affiancano altri due linguaggi un linguaggio si chiama css che permette di definire dei fogli di stile cioè ti dice qual è lo stile con cui verranno visualizzati i vari elementi anche qua è basato su una serie di proprietà andiamo a prendere ad esempio sempre di questa pagina ad esempio e vediamo che insomma inspect questo titolo qua questo qua che è il titolo come fa il browser a sapere che questo qui va scritto con questo font questa dimensione questo colore e questa spazzatura davanti e dietro è perché a questo titolo è associata una certa classe che è figlia di un'altra classe che è figlia di un'altra classe quindi di fatto gli elementi vengono annotati con una cosa che si chiama class che in realtà sarebbe lo stile se parlassimo e questi sono i file css che vengono importati all'interno di questa pagina i quali dicono guarda gli elementi tipo content page title text declaration none cioè questo ad esempio questa riga specifica dice guarda che questo qui è un link per cui se ci vado sopra posso cliccare e andare da qualche parte ma non viene sottolineato di solito i link sono sottolineati nelle pagine qui ho tolto la sottolineatura se io disabilitassi questo css vedete che compare sottolineato la sopra questo faccio solo nel browser ovviamente se dovessi farlo permanentemente dovrei andare a modificare questo file qua template.css sul server si può fare quando abbiamo costruito questo sito per la prima volta ci abbiamo dovuto utilizzare dentro anche i css per decidere quale aspetto grafico dovrei avere poi ci sono che sulla dimensione è un pochino più grande perché il font size è 150% questi qua sbarrati sono specifiche che sono stati in realtà sovrascritte da altre perché questo il css significa cascading style sheet style sheet è facile fogli di stile sono dei fogli che contengono gli stili da applicare agli elementi dell'html quindi l'html è il contenuto il css è il vestito che gli do questo contenuto cascading perché lo stesso attributo può essere ridefinito più volte in modo da io imposto un colore generale poi invece per questa sezione ridefinisco alcune proprietà che si applicano incrementalmente rispetto a quelle precedenti quindi di fatto vedete quante proprietà ci sono sono state cancellate e quelle che rimangono sono solamente queste questa è una visione che mi dà firebug ovviamente quello che io vedo quando creo un foglio di stile è una cosa di questo genere vedo questo file e scrivo le proprietà le liste non numerate sono fatte in questo modo le liste ordinate sono fatte in quest'altro modo TH sono le le celle di una tabella che contengono dei titoli table heading allora le voglio fare in grassetto con 5 punti di spazzatura allineamento sinistro vabbè nulla di mostruoso è un linguaggio che mi permette di definire degli stili e appiccicare degli stili a delle categorie di elementi dell'HTML la cosa bella è che io definisco gli stili in modo anche neutrale rispetto alla pagina HTML stessa per cui sono 100 pagine alle quali applico gli stessi stili CSS avranno un aspetto grafico simile ovviamente se usano le class cioè gli stili col stesso nome quindi riesco di bot se volessi decidere di cambiare il colore di tutti i titoli da blu a rosso tocco in un punto unico e il browser questo è un lavoro che fa unicamente il browser il server non lo sa i server nel file HTML c'è una linea all'inizio che richiama i fogli di stile c'è un comando che si chiama link che permette di linkarci dentro un foglio di stile allora il browser chiede il foglio di stile fa il CSS al server web questo tipicamente invece è scritto a mano è statico immaginatamente anche se ultimamente comincia a esserlo perché diventa complicato questo restituisce il file CSS il quale viene tenuto in conto dal motore di layout e quindi è il browser che visualizza la pagina tenendo conto dei fogli di stile voi potete prendere un qualunque sito e disabilitare i fogli di stile forse una volta c'era un menu per farlo vabbè non lo trovo al volo potreste vedere questa pagina senza fogli di stile credo che si possa disabilitare da qua vabbè non voglio perdere il tempo adesso e il contenuto che vedeste sarebbe lo stesso ma il layout non sarebbe affatto lo stesso i colori verrebbero mancare la dimensione di fondo sarebbero tutte uguali sarebbe bianco e nero essenzialmente tranne qualche immagine e questo è metà del lavoro dare l'aspetto grafico e poi c'è la parte di animazione di interazione e come faccio a fare? vabbè questo non lo posso codificare in un linguaggio così semplice il fatto che quando il mouse va qui debba comparire un certo rettangolo al fatto che un rettangolo possa comparire o scomparire lo posso fare col CSS perché ha un attributo hidden oppure visible anzi display visible display none o display block e quindi un rettangolo che può essere pronto ma non visualizzato però deve esserci qualcuno che dentro il browser modifica quell'attributo da display none a display block chi è che sa quando devo cambiare quell'attributo? nessuno lo sa il browser non può saperlo non è che c'è una regola generale il server ormai è morto si è già dimenticato di noi tempo fa quindi qualcosa dentro la pagina ctml collegato alla pagina ctml deve avere un minimo di logica di conoscenza che dice quando l'utente fa questo modifica quell'attributo css per far comparire o scomparire quell'effetto questo addirittura è più complicato perché lo fa comparire con un'animazione e quindi non lo fa comparire non solo lo fa comparire ma ne modifica l'altezza gradualmente quindi modifica l'altezza che sono 10% 20% 30% 40% in modo che noi vediamo l'animazione ci vuole un programmino per farlo un programmino che però gira dentro il browser quindi quando noi scarichiamo una pagina internet oltre a portarci dietro l'html generato attraverso questa trafila oltre a portarci dietro le immagini oltre a portarci dietro i fogli di stile tipicamente ci portiamo in casa anche dei programmini scritti in un linguaggio specifico che si chiama javascript il nome ufficiale sarà backmark script ma tutti lo chiamano javascript questo linguaggio è un linguaggio che non viene eseguito sul server sul server è un file come tutti gli altri passivo statico immobile viene servito come file statico e il browser come vedete in questa figura si è arricchito di un altro modulino che è chiamato motore javascript questo motore javascript interpreta le istruzioni di questo linguaggio tutti i browser moderni al loro interno sono capaci di interpretare il javascript e il javascript è un modello di programmazione ad eventi in cui dico quando succede questo evento tipo on mouse over cioè quando il mouse passa sopra di un certo elemento della pagina html quindi di quel testo lì allora esegue una certa procedura e questa procedura può modificare le proprietà della pagina stessa quando voi lo scaricate questo file viene letto e interpretato da questo motore javascript questo motore javascript viene in stretto contatto con il motore del layout perché il software che si vede questo codice javascript deve modificare capire cosa c'è sulla pagina capire cosa sta facendo l'utente nella pagina e modificare il contenuto della pagina stessa e quindi in realtà il motore di layout può essere fatto come vuole ma c'è bisogno di un'interfattura ben standardizzata affinché il javascript che scrivete voi sia in grado di manipolare gli elementi della pagina che il motore di layout ha già letto estraendoli del file html quindi come minimo agli ingredienti minimi dello sviluppatore web in erba dobbiamo aggiungere la conoscenza dei css la conoscenza del linguaggio javascript la conoscenza del modello di om document object model che è l'interfaccia verso i motori di layout la cosa sconvolgente è che tutto questo deve funzionare anche se cambiate browser se voi immaginate che l'interfaccia di javascript il motore di layout di un browser che so non hanno nulla a che vedere in termini di cui c'è scritto di chi l'ha scritto come l'ha scritto con quelli di chrome o come quelli di internet explorer ma di tutto sono scritti in linguaggi diversi ma il sorgente javascript che ho scritto io sul server e che verrà scaricato dal browser di 10 tipi diversi quando è interpretato dall'interno del javascript di uno di questi browser potrò vedere le proprietà della pagina html che ho generato sempre io che è stata letta dal motore di layout di quel browser nello stesso modo se il codice di javascript non si accorge non dovrebbe accorgere non dovrebbe dipendere dal contesto in cui viene eseguito ci sono voluti più di 10 anni per arrivare a un risultato decente in questi termini javascript e css sono oggetti ancora relativamente fragili nel senso che c'è una buona probabilità che deve fare qualcosa di popino più complicato del solito e su alcuni browser non funziona perché interpreta in modo diverso il linguaggio o il css o il dom però fatto questo voi riuscite lato server agendo qua e qua state scrivendo due programmi diversi uno che viene eseguito sul server e ha accesso il database e tutto quello che volete l'altro che verrà eseguito sul browser avrà accesso alla pagina avrà accesso all'utente perché vuole vedere dove l'utente sposta il mar dove clicca questo archivente che in qualche modo parlano tra di loro manca l'ultimo pezzo perché il difetto di questa o la limitazione di questa architettura è che questo già ha una nota dal punto di vista la sicurezza voi sappiate che ogni volta che navigate su un sito il vostro browser sta eseguendo sul vostro computer un programma che qualcun altro che voi non conoscerete ha scritto per fortuna i browser cercano di isolare molto bene ciò che viene fatto qua rispetto al resto del computer cioè il codecjavascript non avrà non avrà mai accesso ai file del vostro pc ma solamente al contenuto della pagina dove questo mai è sempre al netto di bacchi o di problemi di sicurezza quindi e noi stiamo navigando ci stiamo eseguendo sul nostro computer codice scritto da miliardi di persone diverse ci fidiamo che tutto vada bene a volte qualcosa non va bene allora uno si porta dietro il virus perché ha navigato su dei siti non sempre raccomandabili dicevo manca ancora una cosa questo codice c'è già una scritta a parte il fatto che è isolato da resta del sistema e quindi può avere accesso solamente alla pagina e vive dentro al browser e non vede niente all'infuore del browser ci stiamo bene ha una limitazione che lui può vedere solo e disporre solo delle informazioni che erano già presenti nella pagina HTML nel momento in cui questa è stata caricata cioè quando io vado su qualunque sito e comincio a scrivere dentro una casola di testo beh abbiamo capito che è il JavaScript che apre una finestra sul DOM aggiunge un blocco e ci mette del contenuto dentro ma come fa quel JavaScript a sapere le parole da scriverle dentro ma dove le prende mica se le inventa e potrà mica portarsi dietro ogni volta che carichi una pagina dentro JavaScript e esserci 200 MB che contengono le query più frequenti su Amazon allora ci sono moltissime funzionalità a cui siamo abituati che richiedono che il codice JavaScript una volta che è in ejecuzione sulla nostra macchina possa in qualche modo ancora comunicare col server qui no non può può solo fare delle cose quindi far comparire scomparire i box benissimo non mi serve un'informazione aggiuntiva ma far comparire informazioni che prima non c'era da dove la prendo questa informazione e beh devo poter parlare col server in un secondo momento e quindi è stata data recentemente è quella che ha fatto nascere il codice web 2.0 dal punto di vista tecnologico non da quello sociologico che è un altro discorso la capacità al codice JavaScript una volta che è stato caricato una volta che la pagina è stata visualizzata di poter contattare ancora il server e di fatto richiedere non a questo punto non più delle pagine HTML ma dei dati cioè in questo caso quando io ho scritto CAF per dire caffettiera il codice JavaScript sulla pagina sul mio browser è andato a chiedere alla server di Amazon senti ma l'utente ha scritto CAF dammi un po' di completamenti utili così gli mostro ha mandato una richiesta a HTTP che è stata intercettata da una certa pagina applicativa che ha fatto la query nel database questa query ha distribuito un insieme di risultati questo insieme di risultati è stato veicolato all'indietro al motore JavaScript il quale ha modificato il DOM per mostrarmi questi risultati sulla pagina tutto dall'autocompletamento a Gmail a qualunque Facebook a tutte le applicazioni che usate si basano sul fatto che dopo che ho caricato la pagina la pagina stessa può mantenere un dialogo con il server in modo asincrono la cosa va avanti senza cambiare la pagina ma in background la pagina parla col server si scambia informazioni senza che voi lo sappiate se andassimo a vedere con Firebug che cosa succede ricarichiamo la pagina e vedete che se io scrivo qualche cosa magari di diverso non caffè ma tè vedete che qua sto facendo tutta una serie di richieste aggiuntive man mano che scrivo il browser sta parlando col server ne so un video DVD compaiono nuove richieste cioè man mano che io faccio cose sulla pagina il JavaScript lo sa le intercetta le intercette quelle che le interessano e si riserve parla col server per avere delle informazioni in più informazioni che sono non più pagina HTML intere ma dati dati codificati in qualche formato i due formati più frequenti utilizzati sono inizialmente il formato XML che codifica dei dati poi si accorde che XML era un po' troppo pesante da impacchettare trasportare e spacchettare perché è molto verboso per cui si è inventato un formato di operazione di dati molto più snello JSON si chiama JavaScript Object Notation che ha il vantaggio che può essere interpretato in modo nativo dall'interprete JavaScript perché è già una sintassi interna al JavaScript e quindi sul browser il browser fa molta meno fatica a gestirlo questa è la tecnologia su cui si basano tutti i siti oggi questa è la tecnologia più semplice è la configurazione minima un sito decente oggi come minimo a queste cose un sito enterprise lato front end sì lato back end è molto più complicato a questo livello qua perché non si vuole non si può permettere che lo stesso programmatore nella stesso file PHP decida quali classi dare agli elementi HTML quindi layout l'impaginazione le query del database la logica applicativa le scelte da fare ma hanno separato in vari pezzettini perché se il progetto è molto complicato non può una persona una sola avere in testa tutto e avere la competenza su tutte queste parti qua quindi applicazioni web enterprise sono molto più complicate su questo livello qua applicativo nel senso che ci sarebbe un'altra slide piena come questa solamente per descrivere come è fatto il livello applicativo ma questo diventa più un problema di ingegneria di software di un sistema complesso non c'entra più con HTML non c'entra più con gli utenti c'entra con sviluppare certe funzioni per fare in modo che però tutto sia accessibile al person browser queste sono comunque tutte le tecnologie minime e i linguaggi di programmazione minimi che bisogna imparare a gestire e i pattern di programmazione e davanti scrivendo il codice qui genera un elemento perché so che poi più avanti il browser lo visualizzerà in questo modo perché saranno applicati quegli fogli di stile e tanto so che una procedura JavaScript che scriverà qualcun altro quando l'utente va su quell'elemento farà quell'altra cosa e richiamerà quest'altro codice che scrivo io che mi dà il dato che mi manca questo è il tipo di ragionamento che si fa quando si sviluppa questa applicazione qua si pensa in modo asincono distribuito è stato un corso un po' veloce se volete gli approfondimenti me lo dite cerchiamo di ricavare il tempo più avanti